Le parole significative per me per descrivere questa esperienza dell'Erasmus sono confronto, innanzitutto confronto con i colleghi con cui sono partita e con i colleghi che ho trovato in Erasmus in Vezia. La seconda parola è compiacimento, compiacimento per quanto ho imparato, per quanto ho appreso, sia come docente che come soprattutto come studentessa. E infine la sorpresa, la sorpresa per l'esperienza che è stata, per tutto quello che ho vissuto e per tutto quello che ho provato e per la completezza totale di questa esperienza che mi ha arricchito tantissimo e che mi piacerebbe rifare in seguito.